74esimo anniversario della Resistenza e della Liberazione in programma il prossimo 25 aprile a Terranuova Bracciolini. Varie le iniziative, il ritrovo in Piazza della Repubblica con bandiere e gonfalone alle 11, alle 11.30 la sfilata della Corteo fino a Piazza Liberazione dove verrà deposta una corona di alloro. L'amministrazione comunale ricorderà tra le altre la figura del partigiano Mauro Panichi, sminatore delle scuole cittadine e la barbara distruzione della cinta muraria della Comune di Terranuova Bracciolini. Il programma però non riguarderà solamente la giornata del 25 aprile. Siete liberi il 25 aprile, questo è il nome dell'iniziativa, è un appuntamento che si ripete ormai da nove anni. Noi ci siamo immaginate anzi due appuntamenti, uno il 25 aprile in Pratomagno, che è uno appunto dei luoghi storici della Resistenza nel nostro territorio, e l'altro invece il 28 aprile alle Fornaci con la presentazione di un disco. Queste iniziative sono aperte a tutti coloro che in qualche maniera vogliono testimoniare la necessità della memoria e la necessità della storia, quindi ricordare, non dimenticare quello che è stato, perché come diceva anche prima l'assessore, la democrazia che abbiamo oggi è figlia proprio di quelle lotte, di quel periodo lì. Dunque il 25 aprile la mattina ci troveremo verso le 11 e mezza, mezzogiorno, al piazzale dei Frassini, sulla panoramica, pranzo sociale, letture, insomma sarà anche un'occasione di stare insieme, di confronto fra di noi. E poi fra l'altro lì c'è una zona in cui ci sono dei sentieri ad anello che erano praticati da...